Un gesto affettuoso in nome di tutti i pompieri d'Italia è stato fatto questa sera ad Adano davanti alla caserma dei vigili del fuoco, dei giovani hanno portato dei lumini e dei fiori per ricordare i tre pompieri morti nella tragedia di Alessandria. Siamo con il capo di staccamento di Adano, un momento di tenerezza possiamo dire che conferma il grande amore, il grande affetto che tutti hanno per i pompieri. Grazie a questi ragazzi che hanno chiamato e mi hanno detto se potevano portare dei fiori e mettere qua in caserma. Io sono stato molto felice di accontentarli perché è un gesto d'amore veramente. Poi abbiamo saputo che nell'incendio è stato coinvolto anche un vio di un collega nostro di Catania ed è ricoverato ad Asti, però non ha problemi, la prognose non è riservata, ha solo ammaccature e lesioni, non avrà grandi conseguenze. Da quando accadono fatti di questo genere, un pompiere come vive questa tragedia? Come se la vive lui stesso, è una cosa che ti tocca all'interno del cuore perché in questo minuto io penso anche ai due ragazzi che sono morti a Catania perché è stato uno scoppio e si è verificato pure là un altro scoppio. Anche di natura diversa che poi le autorità e il pubblico ministero saranno per fare le sue valutazioni. Tornando al gesto di Adrano, quanto è importante il fatto che sia giunto da parte di giovani? Ma è grandissimo il gesto perché ci tocca veramente nel cuore questa cosa.